Uno, passè, altra gamba, più tu, non passè, via 3, apro, il fianco posto che lo fa, aprite, E va di un bianco posto, via torno quattro, passe e stendo, capito come? Sicure, bene, manine per terra, via grampi e stendo e stacco, grampi e stendo, stendo, ora stacco e giù, via due, due, stacco, brava, giù e tre. Due, stacco, bravissima, giù e qua fanno pieni flex, con le gambe tese, bravissima, apro prima posizione, torno flex e stendo, brava, forte, brava, ok? Flex, prima, torno e striscio le dita, uno, due, non siete pronte? Piedi non sono a posto, via, uno, voglio le ginocchia staccate dal pavimento e apro prima, due, prima, prima bimbe! No, quella è la prima centrale, giù i talloni per terra, giù i talloni per terra, guarda la tua compagna che lo sta facendo giù, guarda la giada, guarda i piedi della giada sono perfetti. E ritorno, chiudo sesta e tiro le punte. Brava Giardina, adesso lo scarico...